Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il fatto dedicato alla politica. A partire da questa settimana, oltre che alla politica regionale, iniziamo a fornire ai nostri telespettatori informazioni e approfondimenti sulle prossime comunali, ospitando alcuni dei protagonisti delle sfide nelle città principali d'Abruzzo per la tornata del primo fine settimana di giugno, che sarà coordinato anche col turno sulle europee. Di questo iniziamo a parlare oggi con il candidato della coalizione di centrosinistra e civica di Pescara, Carlo Costantini. Buonasera a Costantini. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, iniziamo con lei, iniziamo a parlare della città di Pescara, che è ovviamente la più grande della regione, anche del turno elettorale che interesserà anche importanti altri comuni. Sarà questa innanzitutto, Costantini, l'ultima elezione della città di Pescara in quanto tale, perché lei sa meglio di noi, essendone stato il protagonista, nascerà una nuova città, una nuova realtà. E questo varrà anche per Montesilvano, che sarà le urne in contemporanea. Ecco, si guarda questa campagna elettorale, ma con quale prospettiva proprio rivolta al futuro di quest'area per la nuova città, Costantini? Io sento molto il peso di questa responsabilità, se non altro perché il progetto di Nuova Pescara nasce da una mia iniziativa referendaria, poi proseguita con l'istituzione, con il legge regionale del Comune di Nuova Pescara e poi proseguita ancora nel corso degli anni con il mio impegno. La città di Nuova Pescara rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza, il più grande processo di fusione mai realizzato in Italia e credo in Europa. E soprattutto la straordinarietà del caso è legata al fatto che si è trattata di una riorganizzazione di un modello di amministrazione pubblica partita dal basso. Sono stati gli elettori, i cittadini, attraverso l'espressione del voto referendario, a dire vogliamo organizzarci in questo modo. Il problema è che questi tre anni saranno decisivi e da qui la ragione del mio impegno e della mia disponibilità alla candidatura al sindaco. Saranno fondamentali perché da questi tre anni dipenderà l'esito del processo di fusione, nel senso che se si continuerà a procedere in ordine sparso, senza creare una cabina di regia tra sindaci, senza definire i progetti strategici che dovranno in qualche modo calarsi sulla realtà territoriale dal 1 gennaio 2027, probabilmente rischieremo di andare incontro a grandi difficoltà. Peraltro in questo contesto io ho assistito negli ultimi mesi a delle prese di posizione legittime dei sindaci di Spoltore e di Montesilvano che rivendicano la possibilità di far valere le loro esperienze, perché l'errore che ha commesso Pescara in questi anni è stato quello di immaginare che i modelli organizzativi, penso dei servizi sociali, penso della raccolta ai rifiuti, penso della gestione di tributi, i modelli organizzativi di Pescara siano i migliori, in realtà a Spoltore e a Montesilvano i servizi funzionano e spesso costano anche molto meno, quindi non bisogna avere nessuna forma di presunzione, ma bisogna incontrare i sindaci e incontrare i dirigenti che hanno responsabilità apicali, sedersi attorno a un tavolo e studiare insieme il modello di organizzazione della nuova città. Io devo dire che in questi anni tutto questo purtroppo è mancato, se è vero come è vero che Pescara ha pensato di realizzare un canile a Spoltore senza nemmeno fare una telefonata al sindaco, cioè il sindaco si è ritrovato una domanda di permesso di costruire per il canile di Pescara a Spoltore senza sapere niente, insomma se questo è il modo di procedere io comprendo sempre di più le preoccupazioni dell'amministrazione di Spoltore e di Montesilvano, occorre più senso di responsabilità e occorre sviluppare un senso di partecipazione ad una comunità in crescita che fino ad oggi è mancato. Sono molto più maturi i cittadini del centro politico. Però lei sta facendo un ragionamento non molto comodo, sarebbe più comodo dire che questo processo è un processo perché lei dovrà avere i voti soltanto dei pescaresi tra poco più di un mese, quindi dire che questo è un processo di annessione piuttosto che di fusione, dire che la città dovrà chiamarsi necessariamente Pescara, lei ha usato il termine nuovo a Pescara poco fa, potrebbe essere più conveniente dal punto di vista elettorale per lei? Io non scelgo la convenienza in questi momenti, scelgo la sincerità e l'obiettività e io nei confronti ai cittadini di Pescara voglio essere sincero ed obiettivo, come dice giustamente lei mi farebbe comodo cavalcare il fatto che il nome sia Pescara, ma siccome la scheda che i cittadini hanno messo nell'urna del referendum, lo scritto io con le mie mani e siccome nella scheda c'è scritto Nuova Pescara, io ho il dovere di dire ai cittadini che per cambiare il nome da Nuova Pescara a Pescara ci vorrebbe un nuovo referendum, non ho nessun motivo per ingannarli, così come devo dire ai cittadini che se vogliono che Nuova Pescara nasca così come loro se l'aspettano, è necessario sviluppare un dialogo più proficuo e più concreto con le amministrazioni di Montesilvano e Spoltone, avrei interesse in questo momento a dire no, facciamo un'annessione, prendiamoci i territori, ma che senso avrebbe? Io non inseguo l'inganno, sono sincero ed obiettivo, peraltro su un progetto come questo che studio da tanti anni sarebbe veramente paradossale se dovessi fare affermazioni che mi allontanano dalla realtà e poi un'altra cosa voglio dire, i pescaresi hanno dimostrato una lungimiranza e una capacità di leggere il futuro straordinaria, nel 2014 usavo un linguaggio simile a questo e mi dicevano tutti che il referendum avrebbe raggiunto il 20, il 30% dei consensi, in realtà a Pescara abbiamo preso il 71%, quindi io non ho paura della capacità dei pescaresi di comprendere chi si rappresenta loro con serietà e correttezza e chi invece si rappresenta con arroganza e presunzione, quindi non rinuncio ad essere esattamente come sono stato in questi anni. Le faccio una domanda, lei si immagina a metà giugno sindaco di questa città, con di fronte appunto, questo è l'ultimo tema che voglio affrontare in termini di Nuova Pescara, con un'estate da organizzare in qualche modo, oppure già organizzata in maniera assolutamente legittima dall'attuale amministrazione comunale, ecco non pensa che ci siano troppi accavallamenti di eventi, una organizzazione persino della, ma questo voglio dire sia Pescara che Montesilvano, della viabilità sulla riviera in maniera diversa rispetto ai parcheggi, rispetto a… Cioè questa città nella sostanza d'estate potrebbe nascere già in maniera diversa, qual è l'impronta che le darebbe? È nei tempi che le saranno consentiti molto rilevati? Guardi la situazione è veramente preoccupante perché ha dimenticato un aspetto, nella nostra estate affronteremo anche la situazione drammatica dei balneatori che giustamente lamentano il fatto che il governo non sia riuscito a trovare, non dico una via di fuga, ma quantomeno un percorso amministrativo utile ad offrirgli degli elementi di certezza rispetto al futuro, quindi ci sarà anche il rischio che nella gestione delle concessioni balneari possa accadere qualcosa, io sono informato sulla materia e so che c'è la spinta forte perché il governo quantomeno definisca delle linee guida per la gestione delle gare che dovranno consentire l'affidamento nelle concessioni, io ho paura del caos, le dico sinceramente, ho paura del caos perché i parcheggi non ci sono, sono stati ridotti, ho paura del caos perché il filobus è scomparso, ma era evidente ed era prevedibile la sua scomparsa, ma al tempo stesso non sappiamo ancora se la strada parco potrà essere utilizzata quantomeno nei giorni di maggior afflusso sul mare per consentire alle persone di raggiungere gli stabilimenti balneari, c'è una situazione di confusione incredibile, io sono molto preoccupato perché obiettivamente esiste una condizione di caos, se lei mi dice cosa potrò fare per risolvere da un punto di vista della mobilità, dei parcheggi e del traffico la situazione nei due giorni successivi rispetto alla mia elezione, io le dico che sarà difficile riuscire a compensare una situazione così disordinata, certamente cercherò di trovare ogni spazio possibile e immaginabile per favorire l'accesso delle persone, per consentire il parcheggio, però obiettivamente come ricordava lei ereditiamo una situazione caratterizzata da un disordine senza precedenti, c'è stata la volontà di far partire cantieri uno dietro l'altro, i cittadini sono stati ingabbiati nelle loro case e privati della possibilità di parcheggiare o di uscire, a tutto questo si è aggiunta la tragedia dei semafori trappola, dei semafori che in qualche modo hanno sanzionato l'automobilista per infrazioni di millimetri o di frazioni di secondo, alla ricerca disperata di soldi da prendere dalle tasche dei pescaresi e da utilizzare per progetti sbagliati, magari come il Viale Marconi, veniamo da 5 anni veramente difficili, a me spiace dirlo, però obiettivamente girando la città e parlando con le persone percepisco con chiarezza il desiderio dei pescaresi di voltare pagina, perché poi il futuro di una città non si gioca esclusivamente sostituendo la mattonella del corso, sostituire la mattonella del corso per carità è un intervento interessante, ma Pescara ha bisogno di molto di più, Pescara deve riprendere la sua corsa verso il futuro, Pescara è sempre stata una grande città capace di scoprire e di riscoprirsi, ha perduto passeggeri e transiti, l'aeroporto vive in una condizione di crisi incredibile, dall'A14 è diventata irraggiungibile, se da nord qualcuno immagina di venire a Pescara con l'A14 è spacciato, i traghetti per i collegamenti con l'altra sfonda dell'Ariatico ormai sono scomparsi e credo che sebbene il progetto di realizzazione del porto sia in una fase di rallentamento, nessuno stia lavorando per ripristinare i collegamenti con la Croazia e con la Grecia, il trasporto ferroviario su Roma è lunghissimo ed è lentissimo, nel frattempo abbiamo 35 milioni di pellegrini che andranno a Roma nel 2025, l'aeroporto di Pescara è potenzialmente il terzo aeroporto di Abruzzo, non c'è stata un'iniziativa di marketing, un'iniziativa in termini di interlocuzione con le compagnie low cost per cercare di intercettare una quota di questi pellegrini, si è navigato a vista, si sono inseguiti gli asfalti, rifacimenti degli asfalti che poi non sono stati fatti perché ci sono pezzi interi di città che non hanno mai visto un Euro speso a livello di manutenzione, io in realtà immagino una Pescara diversa, immagino una Pescara che si candida ad essere capitale dell'Adriatico e che torni a correre verso il futuro, la Pescara di una volta, ma una Pescara ancora più moderna, potrei parlare dell'università, ho protestato quando ho visto il bando della provincia che metteva in vendita la sede della caserma di Vigilio del Fuoco, l'amministrazione mi ha risposto che non è un problema di nostra competenza, è un problema dell'università, come se il futuro dell'università non fosse il futuro di Pescara e come se il futuro di Pescara non fosse legato a quello dell'università, evidentemente non si rendono conto che se quei 10-12 mila studenti diventassero 25 mila, tutta l'economia di Porta Nuova risalirebbe incredibilmente da un punto di vista delle prospettive economiche di crescita, non è che Pescara si sviluppa perché cambi il palo della luce o rifè l'asfalto, Pescara si sviluppa se consenti alla sua cittadella universitaria di diventare un campus universitario, se consenti di realizzare un parco centrale che diventi un elemento di attrazione turistica per le persone che vogliono venire a fare il commercio nell'area commerciale naturale, ma questa visione è completamente mancata e lo dico con dispiacere da Pescarese. Ultimi tre minuti e mezzo per parlare della sua coalizione, del cantiere ancora aperto per le liste e anche le chiedo un commento sul sondaggio, l'unico pubblicato finora di Antonio Noto che dà una vittoria di Masci al primo turno. Ma quel sondaggio mi ha lasciato un po' perplesso sia per il 4% di Pettinari che per il 50% dato a Masci, per quanto riguarda invece la mia persona mi ha lasciato molto soddisfatto perché prima ancora che iniziassi la campagna elettorale, quando la mia candidatura era nota esclusivamente tramite le pagine dei giornali e delle televisioni, io ero già al 42%, quindi il fatto che fossi un mese fa ormai al 42% senza aver nemmeno iniziato la campagna elettorale mi dà molta fiducia e mi dà la consapevolezza che una vittoria al primo turno della coalizione di liste civiche del centro-sinistra che ho l'onore di guidare sia possibile. Nel fine settimana c'è un grande evento con Giorgia Meloni, il centro-destra in questa campagna elettorale sicuramente punterà molto sul tema della filiera con la regione appena riconquistata da Marco Marsiglio per il secondo mandato, con il governo nazionale pronto ad aiutare la città di Pescara, sarà così? Ma guardi questa filiera è una favola, quella della filiera io non la vedo, c'è la filiera con la regione comune avrebbe dovuto darci le naia di più belle del mondo, più belle della storia, invece questa filiera ce le ha chiuse le naia di e sono chiuse da anni e purtroppo proprio dalla filiera nasce l'impossibilità di trovare una via di fuga e un accordo strutturale per consentire la riapertura. La filiera sull'aeroporto, disastro, abbiamo una perdita continua di passeggeri, abbiamo perso il volo con Milano e ci troviamo nella condizione che descrivo prima, la filiera con l'ospedale e con le strutture sanitari abbiamo un pronto soccorso che è al collasso e delle liste d'attesa che non hanno precedenti, io faccio fatica ad individuare, probabilmente ci dobbiamo proprio liberare di questa filiera se vogliamo recuperare la corsa verso il futuro, poi per quanto riguarda l'evento della Meloni per carità tutto il rispetto, tutta la considerazione, peraltro questi grandi eventi sono molto partecipati e quindi producono anche dei benefici alla nostra comunità economica, commerciale e turistico ricettiva, però piazzare quei capannoni per un mese, per un evento che deve durare due giorni, mi è parso, ma è parso a tutti i pescaresi, più il tentativo di fare uno spot non pagando peraltro le tasse che io ho pagato per utilizzare i 6x3 che non la necessità di utilizzare quello spazio, se devi fare un evento di due giorni ti metti quei capannoni per tre giorni, al massimo per quattro giorni, ma se me li tieni per un mese, io come chiunque, qualsiasi altro cittadino è legittimato a pensare che si tratti di uno spot elettorale per tentare di far risalire la china ad un candidato sindaco che in realtà è in grandissima difficoltà e questo lo sanno tutti. Bene, io ringrazio Carlo Costantini, naturalmente avremo tante occasioni nel corso della campagna elettorale, quella ufficiale che scatterà, peraltro ci saranno anche altri candidati oltre a lei, Masci e Pettinari, un'ultima battuta, ultimi 30 secondi, quali sono le sue previsioni circa la scheda elettorale che i pescaresi si trovano? Io penso almeno 5-6 candidati, ci saranno l'iniziativa di Italia Viva, non so se si concretizzerà o no, però è un'iniziativa legittima, non ho nulla da obiettare, poi c'è il centrodestra, poi ci siamo noi, poi c'è Domenico Pettinari con le sue due liste, poi dovrebbe esserci Italexit che dovrebbe presentare il suo candidato sindaco, poi ci sono un paio di iniziative civiche che sono ancora in campo. E soprattutto c'è il voto di giunto, quindi uno può scegliere il candidato sindaco a prescindere dalla collocazione. È possibile votare un consigliere comunale di centrodestra e un sindaco di centrosinistra, i cittadini, sono le elezioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale e sono due operazioni distinte e separate, a differenza del voto regionale che non consentiva di votare un consigliere candidato al consiglio regionale diverso dal collegamento con quel candidato Presidente alle comunali, è possibile votare un candidato al consiglio comunale di una coalizione e il sindaco di un'altra coalizione. Bene, grazie Carlo Costantini anche per queste istruzioni operative sul voto, ovviamente a presto con gli altri candidati alla guida della città di Pescara. Arrivederci.